Ciao ragazze, benvenute in un nuovissimo video shopping Che dirvi? Partiamo subito con lo shopping? Non faccio tanti preamboli, sono ferita una mano e mi sono fatta il piercing al sopracciglio se qualcuno di voi nota robe strane diventerò tutta una ragazza piena di piercing piercing, tatuaggi, sex rock'n'roll sono sulla buona strada e volevo farvi vedere un po' di cosine che sono arrivate oggi mi sento super super, come dire tipo un misto tra Britney Spears, Upside It Again Rihanna, Mr. DJ, The Ripple vabbè, per i pantaloni così oggi mi sento, c'è il gattino che mi guarda male vabbè, sono tutta la colonia di gattini oggi mi sento un pochino così, no? un po' non so come dirvi mi sento una dei video musicali non so come spiegarvi e sono super felice di aver fatto il piercing mi piace un sacco il piercing al sopracciglio e ho sempre desiderato averlo e ieri mi è venuto lo schizzo e sono andata a farlo fantastico, giornata fantastica piercing meraviglioso mi piace molto vabbè, me la tiro ancora un po' ok, volevo farvi vedere un po' di cosine ho iniziato a guardare delle cosine che mi sono arrivate ho tirato fuori la prima cosa ho detto stop facciamo il video alle ragazze perché sono cose veramente super carine quindi partiamo subito senza tanti preamboli lui lui questo capo l'ho visto e ho detto oh wow che meraviglia ma che meraviglia ma mi è davvero arrivato questo capo stupendo è un cappottino super moderno tra l'altro perché quest'anno si usano questo sarebbe una specie di second hand quest'anno si usano un sacco queste cosine qua con le frangine che io ho cercato disperatamente in maniera low cost ne ho trovato uno ma non è che sia soddisfatto al 100% perché comunque hanno il loro costo cioè che cos'è questo cappottino? al di là della forma al di là del colore questo color nude non guardate sempre le mie unghie perché è lunedì finalmente devo andare a fare il semi permanente Romina ieri mi ha zannato e quindi vado tutta a sangue su Instagram ho messo la storia stanotte ho passato un brutto quarto d'ora non è che mi abbia zannato per attaccare me si stava attaccando con Paloma io l'ho presa in braccio tanto ho detto tanto non ho più denti quanti morsi che mi ha dato e ero anche in difficoltà perché ero tipo tra il letto e insomma i miei vestiti ma io ho passato un brutto quarto d'ora comunque vabbè infatti adesso faccio fatica a muovere il dito per fortuna che si tratta della mano sinistra quindi la mano destra è sempre molto lesta e niente comunque questo cappottino è stra bello ha la sua cinturina ve lo faccio vedere indossato è una taglia ovviamente unica e la composizione non lo so comunque quest'anno si usano tantissimo e io li ho visti in giro prima che ci fosse appunto la specie quarantena però costecchiavano un po' cioè un po' beh un cappotto andava anche sulle 300 euro anche se non erano magari di chissà che brand due, trecento è top qua sono leggeri comunque lo trovo delizioso al di là che l'outfit non c'entra un tubo comunque è una taglia unica va bene un po' a tutte ovviamente se volete chiuderlo totalmente sì taglia unica fino a 44 altrimenti se lo volete un po' aperto va bene anche un po' di più sono le classiche taglie uniche 44 46 mettiamola così ora ve lo mostro indossato ma vediamo se riesco ok anche se l'outfit ok sì non con questo outfit fa schifo ovvio che non tra l'altro sembra anche bello caldino mi piace un sacco il colore la forma il modello è praticamente nuovo quindi fatto da dio ho anche difficoltà a chiudere il cavalletto ho bisogno di un assistente se qualcuno si offre volontario o qualcuna e niente praticamente ve lo metto ragazze a 18 euro 18 euro credo che sia un prezzo top per un capo super modaiolo di un bellissimo colore di una bellissima fantasia fantasia tinta unita cioè è bello è bello e calcolate che se lo comprate nuovo comunque minimo minimo un 25-30 euro i più brutti i quelli fatti peggio costano così insomma questo è fatto abbastanza bene comunque ed è un colore bellissimo sembra un capo diciamo quasi in cashmere sembra non è in cashmere vero? lo so che non è in cashmere però facciamo la scema è un poliestre però è fatto davvero molto bene al di là di tutto anche il colore guardate tra l'altro anche col capello così biondo questo nude caldo anche se non c'entra nulla il trucco secondo me ci sta benissimo dopo aver parlato per ben 5 minuti di questo cappottino passiamo a questo maglioncino guardate che meraviglia allora il bianco io sono vestita primaverile ve lo dico ma sono proprio sfasata con le stagioni e non capisco più quando è l'inverno quale l'està cioè non capisco più niente e comunque sono abbastanza leggera però vabbè sopra ho il teddy coat e non sono ancora sana quindi non mi sono ammalata né niente anzi mi sto facendo gli anticorpi è giusto anche farsi gli anticorpi l'inverno tutte le volte che mi sono coperta nella mia vita praticamente mi sono ammalata cioè quelle malattie di 2-3 giorni comunque mi è venuto tipo raffreddore tosse quando mi coprivo e poi magari mi scoprivo invece se sto scoperta praticamente dov'è che? ah sì questa è una cosa sì è una cosa positiva ok vi faccio vedere questo bel maglioncino bianco anche questo penso che sia acrilico o comunque poliestere però guardiamo invece no allora quasi del tutto 50 poliacrilico non so cosa sia sarà misto acrilico misto poliestere 30% poliamide 10 moer e 10 lana quindi dai c'è dentro anche un po' di percentuale di lana è molto carino sempre taglia unica guardate le maniche che simpatiche fatte così un po' che si aprono e dicevo che il bianco in inverno secondo me è un colore fantastico e guardate come sta bene anche con cioè accende poi dipende la punta di bianco però siccome ci sta un sacco bene e questo lo potete mettere con i jeans con i pantaloni con un sacco di cosine bellissimo lo trovo delizioso è praticamente condizioni assolutamente perfette e il prezzo ragazze è 10 euro 10 10 euro un altro maglioncino oggi è la giornata maglioncini guardate che carino nero lo so che il nero vi attrae sempre soprattutto nei maglioncini nel basic quelli che vi propongo io sono sempre dei basic a volte super basic però non troppo quindi una via di mezzo questo è un maglioncino nero taglia unica anche questo presumo che sia abbastanza forse c'è dentro della viscosa vediamo sì sto diventando un genio tra un po' ragazze occhi chiusi io vi dirò il tessuto se vado avanti così sì c'è dentro la viscosa 41 nylon poliamide 31 viscosa e 28 poliestere quindi è molto morbido perché c'è dentro la viscosa sono quelli lì super caldini morbidi ma non troppo pesanti insomma per intenderci siccome è il nero luminescente lo vedete poco è un maglioncino crop in taglia unica bellissimo lo potete mettere con un sacco di outfit come grandezza più o meno tipo questo qua mio un po' collegiale sono i maglioncini che vanno sempre vanno sempre vanno sempre bene nel guardaroba avete dei pantaloni stampa particolare ce li mettete sotto fantastico e questo qua ragazze io ve lo metto a 8 euro diciamo 7,90 dai così sembra un po' di meno ottimo affare siccome vi ho visto che avete avuto diciamo una buona attrazione per quanto concerne le borse vi faccio vedere anche questa borsetta di lacosta che mi è arrivata questa è una borsa in tessuto molto molto bella e tra l'altro per esempio col mio outfit sporty chic un po' pop guardate come sta bene l'idea di mettere una borsa così con un outfit magari un po' sportivo scommetto che tutte le modaiole quelle proprio doc hanno nel guardaroba questi pantaloni con i bottoni quelli che si usavano due anni fa insomma più o meno avevano spopolato due o tre anni fa più o meno e poi ovviamente la moda ce la facciamo noi quindi non è che adesso non li si possono più usare anzi e questa qua è una bella borsa di lacoste praticamente le condizioni sono perfette c'è il simbolo qua del coccodrilletto è un colore sembra un nero misto grigio ho dei problemi a descrivervi bene il colore comunque a vederlo così direi che è un nero opaco oppure un grigio molto scuro ed è una bellissima borsa in ottime condizioni e il costo di questa alla costa ragazze è 19 euro quindi mi sembra anche un ottimo prezzo essendo in tessuto poi non tende a rovinarsi i bordi comunque sono leggermente rovinatini proprio ma leggermente qua però dai si mantiene ancora abbastanza bene i bordi purtroppo vanno a rovinarsi basta un po' fermarli magari con qualcosa ho deciso di scontarvela ve la sconto a 14 perché non mi ero accorta che erano proprio così rovinati quindi lo guardiamo in diretta passiamo poi a un abitino super colorato questo qua è di Piazza Italia ed è una taglia M è tipo un abitino a portafoglio adoro questi colori vabbè sono tra i miei colori preferiti perché li possiamo abbinare a dei rossetti a degli ombretti molto scuri toni caldi io ci metterei un bel borgogna un bel rosa un magari un ombretto rosa rosa pallido un po' caldo e un bel rossetto viola viola scuro tipo borgogna oppure un nude c'è dentro anche il beige oppure ci metto comunque lo stivaletto beige lo stivaletto camel bellissimo questo abitino taglia M è tipo a portafoglio quindi attenzione metteteci sotto qualcosa perché se si apre no scherzo io li uso di solito sotto sono scocciata però stanno abbastanza apposte molto carino magari ci metterei sotto un bel body di pizzo nero o nero un po' velato che vedo non vedo ci sta sempre molto bene è un bel abitino le condizioni sono assolutamente perfette vi faccio vedere bene la trama la taglia è una M quindi 42-44 anche abbastanza morbida e il costo di questo vestito ragazze è 7 euro e 50 centesimi le condizioni sono ottime andiamo sempre con Piazza Italia questo è un video tipo collaborazione con Piazza Italia vi faccio vedere un altro maglioncino basic nero tra l'altro è nuovo con etichetta e costava 12,95 la taglia è una LXL basic però abbastanza carino vedete anche le maniche fatte così un po' pipistrello un po' no traforatino ok magari adesso dite fa un po' freddo per mettere questa tipologia di maglioni seguite il baule potete metterlo anche adesso ovviamente sotto ci potete mettere qualcosa né che per forza dobbiamo essere cioè possiamo vestirci anche a strati eh io sotto oggi stranamente ho pure il reggiseno quindi vabbè questo anche sarà assolutamente credo che sia assolutamente acrilico 100% acrilico ormai sono diventata il genio dei tessuti anzi se chiuderò il negozio perché vado in fallimento per colpa del governo eh andrò a lavorare in un'industria tessile e farò la eh come si dice la toccatrice di tessuti così così con gli occhiali neri questo è acrilico questo è poliestere lana vergine puro cotone vabbè e questo vestito questo magliancino qua è l'XL over se siete anche più magrette lo volete oversize nulla a togliere pure io tipo questo forse è un XS cioè per dire le taglie sono sempre un optional e il suo costo ragazze è 9 euro costava 12,95 essendo nuovo non è che possiamo scontarlo più di tanto però ci sta è sempre meno del prezzo pieno spero comunque di farvi compagnia durante questi periodi un po' particolari io ce la metto tutta per farvi compagnia per fare la stupida perché è importante ridere è importante far ridere e sono cose che sto imparando tanto in questo periodo che fare ridere la gente è una è un dono è un dono pazzesco quindi se sono divertente per voi io sono felice quindi insomma spero di non essere spero di continuare a essere divertente non è che mi sforzi più di tanto è naturale però spero spero che voi apprezzate questo insomma quando racconto le stupidate lo faccio proprio anche per intrattenere il mio pubblico il mio pubblico sempre molto molto fedele al baulella Veronica e cardigan nero questo penso che sia arrivi da qualche negozietto cinese visto il brand Evis LXL con quelli attaccati tipo appiccicati ed è un cardigan nero LXL va bene ovviamente anche su una M perché non è un LXL esagerata anche questo qua sono di quelli morbidini che tengo in caldo ma non troppo pesanti quindi avrà dentro sicuramente della viscosa e voi dite magari è visto prima 35 viscosa vi giuro che l'ho appena tirato fuori dal cartone quindi allora c'è dentro 35 viscosa 25 modal 10 lastan e 30 poliamide quindi anche qua abbiamo un'ottima composizione che dà caldino non dà fastidio per la lana per chi ha i pizzichi ed è molto carino condizioni perfette cioè condizioni perfette condizioni molto buone no quasi perfette direi e il costo di questo ragazzi è 6 euro un bel cardigan nero golfetto sempre utile ok sono un po' luminescente ora arriva un maglione super particolare che adoro mi piace tantissimo e adoro quest'inverno questi maglioni che non ho non ho fatto shopping con queste condizioni ho comprato qualcosina qua in negozio ma sempre con le pinze perché sennò vi ruberei tutti i vestiti che arrivano belli vi giuro che me li metterei nel mio armadio poi devo essere altruista e professionale e non lo faccio però vi assicuro che quando arrivano i vestiti qua in negozio la mia tentazione di volerli prendere è fortissima guardate che meraviglia questo maglioncino super natalizio di quelle vacanze anni 80 Christian De Sica e Massimo Boldi mi ricorda proprio gli anni 80 versione moderna hanno fatto anche tanti cardigan fatti così tutti un po' cioè un po' stile natale un po' stile vacanze questo è viola bellissimo bellissima fantasia non è una fantasia che stanca mi sembra una fantasia molto carina e l'idea di metterlo con un bel jeans super skinny quindi è un bel stivalone è subito dietro l'angolo anche con un cuissard wow un bel cuissard anche stivalone ma anche una gondellina sotto tipo tubino cortina ma non troppo e uno stivaletto che meraviglia per gli outfit tipo verso natale eccetera è molto molto carino questo qua condizioni sono perfette e il brand è Saint Monique quindi è un brand francese che fa queste cosine qua pronto moda che tra l'altro costicchiano anche parecchio il costo di questo maglioncione ragazze è 16 euro ma guardate che meraviglia è proprio bello belle anche le croci passiamo a un altro bel vestitino anche questo qua nella gamma dei vestiti quelli che piacciono a me quelli easy che metti su che sembri super fighissima super vestita in realtà mi ha messo su niente cioè nel senso la prima cosa che hai trovato guardate che bello ciniglia verde anche questo super natalizio un bellissimo vestitino taglia unica va bene fino a una L fino a un 44-46 meraviglioso le forme che piacciono a me un bello scollo a V che alza cioè lo scollo a V dà aria al collo vi dà subito un senso di slancia cioè vi slancia vi dà un senso di slanciato vi slancia è stupendo questo vestitino qua molto semplice molto easy innumerevoli outfit per poterlo abbinare il più classico potrebbe essere il nero pizzo nero calza nera un po' ricamata una bella scarpetta elegante oppure stivaletto tronchetto ankle boots anfibio e basta le altre idee non mi vengono sneakers no oppure ci mettete sotto il bianco quindi il verde col bianco ci sta un sacco potete metterci il grigio potete metterci tutti i colori del mondo no non tutti però anche il rosa pallido ci sta un sacco con il verde è un bel vestitino pronto moda ottime condizioni la lunghezza arriva praticamente appena sotto il ginocchio ma non troppo e il costo di questo vestitino ragazze è 8 euro super carino in ciniglietta oddio adesso inizia il mood adoro la ciniglia quest'anno devo ancora usarle un po' di cose in ciniglia io sono la casa piena di ciniglia praticamente nonostante io ami tanto il velluto però purtroppo ultimamente a meno che si va sul vintage il velluto ce lo possiamo sognare quindi non fanno più niente di velluto comunque vi volevo far vedere prima di quello costa poco ho deciso di mettere sconto di list che è una magliettina anni 90 visto che siamo un po' nel mood è una taglia S ed è della list molto anni 90 volevo farvela vedere perché ho deciso di scontarvela a 4 euro se qualcuno può interessare subito questo è uno svuota tutto ma perché è un po' che ce l'ho qua ma siccome è qua che mi guarda ho detto dai adesso la faccio vedere e anche questo volevo far vedere che è una di Tezenis ho deciso di scontarvi anche questo a 3 euro e 90 è un giacchettino molto carino taglia S tipo così un po' in specie tweed molto carino un po' bon tone da mettere secondo me con i jeans strappati ci sta un sacco e niente sono due capi che volevo farvi vedere prima di farvi vedere il vestito in ciniglia io sono innamorata di questo vestito in ciniglia tra l'altro è di OVS ed è una taglia L guardate che meraviglia sfondo nero ciniglioso sempre stesso mood a portafoglio bellissima trama floreale che secondo me non stanca neanche una trama così è una trama molto carina è quella sorta di fiorellino che ricorda un po' la primavera ricorda un po' il blue marine però senza esagerare mi piace molto scollo a V sempre molto molto arieggiante vendo questo vestitino qua di OVS il costo ragazze è 9,50 euro veramente bellino molto molto carino l'ultimo abito di questo video poi devo stoppare perché altrimenti non faccio più nulla cioè sto facendo però insomma poi magari ve ne farò un altro devo fare qualche fotina per la pagina Instagram perché sta piangendo miseria e questo vestitino qua anche questo è sulla taglia media 42 anche morbido ed è un vestitino nero fatto a tunichetta guardate che bello questo ricamo sul tono del rosso un bel rossettino rosso tipo il mio questo qua di Lancome ve lo consiglio tantissimo questo rossetto qua perché questo rossetto qua mio Dio è un rossetto meraviglioso e ve lo consiglio della linea Le Rouge bellissimo veramente è proprio confortevole poi c'è questa nota di rosa che viene in ebria i sensi allora è un bellissimo vestitino arriva anche questo appena sotto il ginocchio manichina così a tre quarti molto carino ok e anche questo ragazzo ve lo metto a 9 euro questo ce lo vedo bene con un outfit boho cappellino tesa larga un qualsiasi stivaletto se ce l'avete bordeaux fate proprio il tocco gne gne altrimenti nero marrone beige ci sono un miliardo di colori che possono andare bene e un bel cappottino sopra aperto adoro questi outfit boho con questi fiori che chiamano subito un po' mistico un po' un po' gipsy una bella copiata devo dire niente ragazzi adesso vi devo portare a salutare anche perché sono già rallentata con la mano questo video qua adesso avviso anche le mie ragazzine di whatsapp le mie clienti super affezionate che uscirà probabilmente in pausa pranzo io intanto vi mando un grossissimo bacio vi saluto spero di avervi fatto compagnia intrattenuto piacevolmente come al solito siccome l'ultima cosa mi è piaciuto il blazer quello di Zara mi sono me l'han chiesto tanti c'è anche questo qua che è una taglia 40 ma in realtà allora l'ha provato mia mamma ha detto che andava stretto e io ho detto ma vati va bene c'è mia mamma non posso fidarmi con le taglie sì è un 42 44 questo perché 40 sarà un 40 euro più non può essere un 40 italiano ve lo faccio vedere perché ho deciso di mettere di sconto anche questo che è molto simile a quello di Zara però è un altro brand ed è un rosa pallido così in velluto siccome me l'hanno chiesto più di una persona e ovviamente se l'ha accapparato solo una questo è anche un po' più lunghetto ve lo faccio vedere è molto bello da portare aperto anche adesso in inverno anche per outfit un po' tipo dandy un po' così un po' maschili ci sta un sacco tipo un bel pullover sotto bello pesante questo sopra è un bel pantalone magari di check o tartan o principe di galles questo qua ragazze ve lo metto in promozione a 7 euro molto bello baffa ah vi faccio vedere anche questo va di mostro vabbè ormai che ci siamo dai facciamo vedere anche questo perché questo l'ho messo su l'ho messo su una foto di instagram che l'ha messo mia sorella ma cioè voi non avete capito la bellezza di questo completo di moschino 38 euro il completo 38 euro vuol dire che se fate diviso 2 neanche 20 euro al pezzo e mi voglio proprio rovinare ma andrò lo so che andrò in rovina però vabbè cioè stupendo ragazze moschino originale taglia 42 è una 42 giusta diciamo ma guardate le rifiniture voi forse non avete visto la bellezza di questo blazer l'indossato è ancora più bello tanto questo me lo volevo tenere io ma l'ho provato tipo due o tre settimane fa e la gonna mi andava giusta giusta però mi faceva un po' il difetto secondo me adesso che ho perso qualche chiletto però ormai ve lo sto facendo vedere quindi ve lo devolvo per in società quanto quello che è mio e vostro sicuramente adesso mi va perfetto lo so già lo volevo tenere io questa è la gonna tubino taglia 42 a me stava giusta giusta adesso dovrebbe andare bene è una cosa spettacolare guardate anche solo con sotto un maglione moderno che meraviglia magari non questo però è uno spettacolo 38 euro è regalato la taglia è 42 non è un 42 abbondante è un 42 proprio streminzito giusto giusto penso che adesso mi andrà pure bene ma me lo immagino già con il rossetto viola è una bella pampo oro ormai ho deciso di devolverlo per voi sono una persona molto generosa da quel punto di vista mi raccomando se qualcuno lo vuole lo prendo poi potete portarlo anche spezzato perché la giacca sta benissimo anche col jeans se qualcuno di voi lo vuole se no se proprio non cioè se non insistete me lo tengo io è stupendo 38 euro ragazze è stupendo veramente ma poi anche il colore con questo lilla con queste paillettes un capo proprio cioè è un completo da collezione poi è sempre un tailleur quindi anche da portare spezzato molto bello spero che questo video vi sia piaciuto ragazze ci vediamo nel prossimo oggi è giovedì ci vediamo nel prossimo video che dovrebbe essere probabilmente domani che è venerdì ormai per oggi ho dato ciao buona giornata a tutte